I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trotone hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di una società di capitali presente sul territorio calabrese e di sei soggetti per i quali è stata dimostrata l'indebita percezione tra il 2017 e il 2018 di contributi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il bonus Cultura 18UP. Gli accertamenti effettuati hanno permesso di svelare l'esistenza di un sistema all'interno della società che attraverso false attestazioni trasmesse al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali permetteva ai giovani fruitori del bonus Cultura 18UP l'acquisto di beni non previsti dalla normativa di riferimento e pertanto si rendevano responsabili dell'illecito di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per un importo complessivo quantificato in 1.440.000 euro. Nel quadro delle investigazioni è emerso che su 4.227 soggetti accertati che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 sono state rilevate situazioni di irregolarità per l'86% delle singole erogazioni con la conseguente verbalizzazione di oltre 3.500 illeciti amministrativi. Per le situazioni irregolari constatate, gli studenti a seguito di notifica del verbale redatto sono obbligati a pagare una sanzione pari al valore dei beni non ammessi al beneficio che nella stragrande maggioranza si è rilevato relativo all'intero bonus pari a 500 euro. Mentre nei confronti dell'azienda controllata è stata invece inoltrata un'apposita segnalazione al Ministero dei Beni Culturali per l'avvio della procedura di recupero dell'intero beneficio dell'oggetto di illecito. Pertanto il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Crotone ha eseguito il sequestro di beni per un controvalore complessivo pari a 1.387.000 euro in quote societarie, denaro contante, un immobile, conti correnti postali e bancari e 5 autovetture.